Ciao sono Enzo, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi parliamo del vero motivo per il quale dovresti scegliere nel 2024-2025 una fotocamera Reflex. Ma intanto l'intro, poi parliamo del resto. Ma intanto, se non mi conosci, mi chiamo Alessandra, sono un fotografo freelance specializzato in fotografie di ritratte still life che dedica sempre più tempo per aiutare fotomatori e aspiranti professionisti. Tutto questo attraverso dei percorsi personalizzati, pensati in base anche a quelle che potrebbero essere le tue specifiche esigenze. Quindi, chi volesse maggiori informazioni, link in descrizione e iscriviti al canale per non perdere altri contenuti come questi. Passiamo a quello che è l'argomento di questo video, ovvero il vero motivo per il quale ad oggi, 2024-2025, dovremmo voler scegliere un sistema Reflex piuttosto che un sistema Mirrorless. E ve lo dico subito, il motivo è prettamente economico. E mi spiego meglio. Ad oggi il sistema Mirrorless ha sicuramente invaso per la maggior parte quello che è il mercato fotografico e personalmente penso che, se pensiamo al futuro delle fotocamere digitali da qui ai prossimi dieci anni, le Reflex, per quanto siano un sistema fotografico che secondo me è ancora intramontabile, quindi si continueranno comunque a vendere, è sicuramente evidente che per tutta una serie di ragioni il futuro delle fotocamere digitali sarà appunto soprattutto Mirrorless. Ma detto questo, come molti sapranno, sicuramente i nuovi modelli soprattutto dei sistemi Mirrorless hanno davvero delle cifre abbastanza importanti, soprattutto quando si parla anche di spese da affrontare per quello che potrebbe essere semplicemente, tra virgolette, un fotomatore, o anche magari un fotografo che vuole magari iniziare a fare degli investimenti un po' più importanti sull'attrezzatura perché appunto magari vuole investire per farlo anche diventare una professione. Quindi detto chiaramente, se non hai subito a disposizione magari quei 2-3 mila euro, considerando l'acquisto di un buon corpo macchina, magari abbinato a una buona lente o davvero a un piccolo corredo di lenti, perché anche lì chiaramente ci sono delle spese che sono nettamente aumentate rispetto a quelli che potrebbero essere appunto le lenti per il sistema Reflex, quindi in quel caso potrebbe essere una buona alternativa orientarsi più su quelli che sono i sistemi Reflex. Adesso bisognerà anche aver chiaro che si dovrà scendere a dei piccoli compromessi, ovvero sappiamo tutti oramai che il sistema Reflex ha sicuramente un peso oramai superiore rispetto a quello che potrebbe essere magari la contraparte mirrorless, quindi già da questo punto di vista io adesso che la tengo in mano sento la differenza in quanto ho appunto entrambi i sistemi. E altro punto sicuramente a sfavore per quanto riguarda il Reflex, sicuramente non avere la stessa tecnologia che possiamo avere appunto sui sistemi più recenti di mirrorless. Uno su tutti, quello che secondo me fa davvero la più grande differenza, il fatto di poter vedere in anteprima il risultato finale di scatto, già semplicemente dal display come anche da quello che è il bilan elettronico. Questo secondo me è davvero il più grande vantaggio da questo punto di vista per i sistemi mirrorless, e ci hanno anche un po' tra virgolette viziato secondo me un po' con questa formula, perché sì, è diventato veramente quasi impossibile scattare e sbagliare appunto la fotografia, perché con quel sistema veramente bisogna un po' impegnarsi a fare una brutta fotografia, tra virgolette nel senso sbagliata tecnicamente. Però da quel punto di vista comunque chi ha già un minimo di praticità, o comunque ancora meglio vuole effettivamente imparare a fotografare, non deve essere quello appunto un ostacolo che ci vada a tirar via appunto l'idea di prendere una reflex anche ad oggi. Altro piccolo compromesso, anche se per qualcuno potrebbe essere in realtà un grande compromesso, è il fatto di dover acquistare una fotocamera usata. Questo perché molti di questi modelli non sono più sul mercato, quindi necessariamente li possiamo acquistare soltanto di seconda mano. Dal mio punto di vista in realtà è anche più un vantaggio che un compromesso, ovvero riusciamo veramente con poche centinaia di euro alla fine a portarci a casa dei corpi macchine che sono decisamente professionali e che possono veramente garantirci degli ottimi risultati. Per fare un esempio pratico, se hai ad esempio a disposizione un budget che va tra i 500 e i 700 euro, potresti sicuramente acquistare già un primo modello di mirrorless, che sia sicuramente entry level, quindi parliamo con delle prestazioni sicuramente buone, sicuramente più recenti rispetto a quello che potrebbe essere una fotocamera come questa, ma con quella stessa cifra potresti appunto trovare già un ottimo corpo macchina, già professionale, quindi parliamo anche di un sensore full frame, con tutte delle caratteristiche che decisamente ti potrebbe già da subito spornare degli scatti migliori proprio dal punto di vista della qualità dell'immagine. E arrivati a questo punto però va fatta già un'importante distinzione, perché se sei comunque un principiante o un fotoamatore che vuole fare magari poco più che qualche fotoricordo, allora consiglio personale, prenditi tranquillamente una fotocamera nuova, se hai anche quel budget ci sono davvero tanti modelli carini, che ripeto ti danno comunque delle bellissime prestazioni, riesci a fare sicuramente degli ottimi scatti. E parlo di tutti quelli che sono i modelli entry level, che possono essere mirrorless come anche reflex, quindi in quel caso acquista tranquillamente una fotocamera nuova con tutte le funzionalità più recenti che ha e divertiti con quella perché, ripeto, sicuramente potrai fare degli ottimi scatti. Ma se inizi invece ad avere qualche pretese in più, magari hai già un entry level e vuoi passare a un corpo macchina che sia più prestante, sia dal punto di vista ergonomico, quindi anche semplicemente alla disposizione dei tasti, avere un ottimo autofocus, avere anche una migliore qualità di immagine, perché, ripeto, in questo caso parliamo di sensore full frame, mentre entry level sicuramente parliamo di sensori con dimensioni più ridotte, beh, in questo caso io andrei a valutare molto più seriamente appunto un sistema che potrebbe essere sì usato, come detto prima, ma si trovano davvero anche in ottime condizioni, ma che ti può sicuramente offrire da subito delle prestazioni migliori e se vuoi anche più professionali. E tornando al discorso di prima che è anche il fulcro di tutto questo ragionamento, quindi parliamo della parte economica, se vorresti invece acquistare da subito un sistema mirrorless con quelle che sono le prestazioni, come anche lato sensore, quindi un full frame, che abbia le stesse potenzialità appunto di questo corpo macchina, dovresti già avere in mano diverse migliaia di euro, considerando anche appunto quelle che sono le lenti che devi andare ad abbinare. Anche qui non l'ho detto prima, al di là del discorso del corpo macchina usato, c'è davvero un enorme parco ottico, sempre nel mercato dell'usato, anche lì si trovano davvero delle ottime lenti, quindi in ottime condizioni, davvero a dei prezzi relativamente stracciati rispetto a quelle che possono essere le prestazioni che ti possono dare anche oggi. Quindi, per concludere questo video, se sei un principiante o comunque un fotomotore che vuole semplicemente fare delle belle fotografie e ancora magari non ha una fotocamera o semplicemente vuoi fare un upgrade, allora va benissimo andare a investire su quello che è un corpo nuovo, che ha sicuramente delle belle funzioni in più, ti può sicuramente aiutare a fare delle ottime fotografie, a patto di capire appunto come utilizzarla, ma se sei invece un fotomotore con qualche pretese in più, magari anche soltanto per il piacere di avere già un sensore più grande, delle prestazioni comunque superiori, se non addirittura appunto qualcuno che vuole investire il lato lavorativo sulla fotografia, beh, allora da questo punto di vista io andrei a considerare sicuramente nell'usato appunto modelli del genere. Detto questo, mi auguro intanto che questo video ti sia stato utile, se hai domande scrivi pure sotto nei commenti, quindi lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e se fai parte di quei fotomotori che vogliono migliorare il proprio modo di fare fotografia, non ti perdere intanto questo video nel quale ti vado a parlare delle sette regole meno comuni sulla composizione fotografica che sicuramente potranno aiutarti già a comporre meglio quelle che sono le tue foto. Per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao e alla prossima!